Diciamo che quello che è successo martedì ci è mancata un po' di concentrazione e stiamo lavorando per cercare di migliorare gli errori che abbiamo commesso e sicuramente domenica cercheremo di non ripeterli. Quello che succede a tutti i giocatori, non ti capita di fare una partita buona come ti capita di fare una partita sbagliata a volte puoi segnare 25 punti a volte ne segni 5. Quello che io cerco sempre di fare è di fare il meglio per la squadra indipendentemente dal punteggio. Sì, so benissimo che domenica sarà una partita molto difficile, conosco la storia passata tra i due club perché il coach ne ha parlato all'interno degli spogliatochi e cercheremo di fare il meglio per vincere questa partita. E' un po' di rispetto al campionato, che ne pensa? Quali sono gli obiettivi che la squadra vuole raggiungere e con i prossimi? È un po' la stessa cosa rispetto alla Champions League. Essendo il mio primo anno non conosco benissimo le squadre e i giocatori, ma sto cercando di conoscere il più possibile, di apprendere il più possibile. Gli obiettivi della squadra sicuramente sono quelli di vincere più partite possibili e di arrivare ai playoff. Quello personale è quello di dare il massimo alla squadra e di poter vincere il campionato. Bene. Ancoraですね. Avellino and just to win as many games as we can.